Non potranno più attraversare le zone di Piazza Vittorio Veneto, Lungo Po a Cardona, Parco del Valentino, incontrarsi con gli amici per quattro chiacchiere o svolgere delle commissioni locali appartenenti a quell'area. Tutto questo per un anno, se il provvedimento non viene violato. Le baby gang di Torino, di cui si è tanto sentito parlare dallo scorso anno, famose per le loro operazioni in branco tra rapine, aggressioni in mezzo alla strada, d'assalti predatori, sono state finalmente fermate con 35 Daspo Willy che impongono l'interdizione urbana in perimetri ben precisi di una città con una durata massima di due anni. Tra loro ci sono anche i 19 minorenni. Si tratta di ragazzi compresi tra i 16-18 anni, alcuni italiani e altri di origini nordafricane, romene e moldave. Il Daspo Willy è l'ultima misura di prevenzione introdotta dal legislatore in memoria di Willy Monteiro Duarte. Il 21enne è pestato a morte a Colleferro. Lo scopo è quello di arginare l'aumento dell'aggressione e dei delitti commesi da gruppi di giovani e giovanissimi nei confronti dei loro coetanei. In caso di violazione si rischia la denuncia e la reclusione da sei mesi a due anni e multe fino a 20.000 euro. Tutto è cominciato l'estate scorsa, quando alla polizia e ai carabinieri erano arrivate le prime denunce da parte di minori, assaltati in Via Verdi, in Via Santo Ottavio, da alcuni ragazzi che si presentavano in gruppo per commettere i propri crimini. Episodi che avevano fatto il giro delle pagine di cronaca nera delle testate nazionali, nei telegiornali, tutti con un grande punto interrogativo per capire il vero motivo di queste azioni da parte di adolescenti che dovrebbero solo vivere i propri anni nel miglior modo. Forse per ribellione, per noia e per adrenalina di sentirsi immortali e più forti, forse chissà per qual altro motivo, ma qualunque cosa fosse, chi ha sporto denunce in questi mesi non è riuscito a fermarli, fino ad oggi.